Tu ce la puoi fare se cambi, tu ce la puoi fare se ti svegli prima la mattina e ti bevi il tè verde X, H, tutti ce la possiamo fare se ci facciamo il culo, no. Il mondo è pieno di gente che con aggressività vi dice sui social network che se non ce la state facendo è colpa vostra. Una persona che vi stimola a fare qualcosa perché altrimenti non arriverete, vuole una cosa sola, piacervi. Il motivo per il quale la gente sui social network vi dice che dovete fare delle cose per arrivare a... E si mette a paragone con voi, con i soldi che guadagna, con quello che ottiene, con i propri successi professionali e vi dice anche tu puoi. Vi vuole piacere perché nel momento in cui vi piacerà vi venderà qualcosa. Ora, una critica che sicuramente potreste fare nei miei confronti è pure tu vendi le cose, sì, anche io vendo i libri. Il mio libro funziona così, entrambi, soprattutto il secondo, quello di cui parliamo oggi. Se lo leggi e ti cambia, ma il tuo cuore fa male, c'è la terapia. I miei amici psicologi dicono che lavoro fa Bea, manda la gente in terapia. Scegliere di accertarsi, di conoscersi, di comprendersi, di non voler cambiare, di non volersi sentire in colpa, non significa solo cambiare la propria vita, significa cambiare la vita di tutti quelli che incrociamo. Smettendo di urlare che se non riusciamo ad arrivare è colpa nostra. Perché non è così. Sous-titrage Société Radio-Canada